Siccome domani ho un esame su tra gli altri Jung ho pensato di fare un velocissimo ripasso sul fenomeno della esteriorizzazione catalitica che io non ho capito molto bene chiedendo consiglio a una persona che della materia comunque ne sa quantomeno la materia Jung quindi prego E quando senti dentro di te qualcosa che sta per accadere fuori? Ma sei serio? Di te Ah è quello Ti dirò di più No è che pensavo fosse una cosa reale È reale Ma reale non è reale nel senso puoi dire che non sia una stupidaggia ma non è reale Sento che sta per succedere qualcosa Qualcosa tipo? Qualcosa Ok aspettiamo Wow Chi è? Ciao sono il vicino Eh prego Posso? Prego Grazie Ascolta ho bisogno di un favore ho bisogno di limoni per fare la guacamole Ah limoni Sì sì limoni ne ho Ma cos'è questo guacamole? È una salsa fatta da limoni e avocado spappolato Spappolato? Spappolato con la frucchetta Buono Buono Molto buono Ok Eh guarda scusa ero convinto di averceli limoni ma proprio non ce li ho Ma bu Ci ho provato dai Grazie lo stesso Ciao Ciao Lo conoscevi? No Mai visto Ok Ma facciamo domani il battesimo Grazie Andrea I love you too Sigmund In un dai lunedì Il mercoledì e il venerdì Ma cosa c'è? Se vi va potete iscrivervi al canale a CagnoPro È la stessa cosa se vuoi se vi va Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale No tenda a fila è brutta